La Procura di Pescara ha chiesto il processo per 25 indagati per la tragedia di Rigopiano. Sono state firmate 25 richieste di rinvio a giudizio dal procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia nell'ambito dell'inchiesta sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola che il 18 gennaio 2017 costò la vita a 29 persone. Tra questi sono confermati i nomi dell'ex prefetto Francesco Provolo, l'ex presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e dell'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. Le indagini compiute dai carabinieri forestali sulla tragedia di Rigopiano vertono principalmente sulla mancata realizzazione della carta valanga e sulle presunte inadempienze relative alla manutenzione e sgombero delle strade di accesso all'hotel e sul tardivo allestimento del centro di coordinamento dei soccorsi. I reati ipotizzati dalla procura vanno a vario titolo dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio, al falso ideologico. La vicenda giudiziaria ora passa al vaglio del GUP che in sede di udienza preliminare dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procura. Gli altri 22 indagati sono Carlo Visca, direttore del Dipartimento di Protezione Civile dal 2009 al 2012, Vincenzo Antenucci, dirigente servizio prevenzione rischi e coordinatore del Core Neva dalla 2001 al 2013, il tecnico del comune di Farindola Enrico Colangeli, Bruno Di Tommaso, gestore dell'albergo e amministratore legale responsabile della società Gran Sasso Resort e Spa, Paolo Dincecco e Mauro Di Blasio, rispettivamente dirigente responsabile del servizio di viabilità della provincia di Pescara, Leonardo Bianco Eida De Cesaris, ex capo di gabinetto e dirigente della prefettura di Pescara, Pierluigi Caputi, direttore regionale dei lavori pubblici fino al 2014, Carlo Giovani, dirigente della protezione civile, gli ex sindaci di Farindola, Massimiliano Giancaterino e Antonio De Vico, il tecnico geologo Luciano Sbaraglia, Marco Paolo Del Rosso, l'imprenditore che chiese l'autorizzazione a costruire l'albergo, Antonio Sorgi, direttore della direzione parchi e territorio ambiente della regione Abruzzo, Giuseppe Gatto, redattore della relazione tecnica legata alla richiesta della Gran Sasso Spa di intervenire su tatuoie e verande dell'hotel, Andrea Marrone, consulente incaricato da Di Tommaso per adempiere le prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, Emilio Rocco Primavera, direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Giulio Onorati, comandante della Polizia Provinciale di Pescara, Tino Chiappino, tecnico reperibile secondo il piano di reperibilità provinciale, Sabatino Belmaggio, responsabile del servizio rischio a valanghe fino al 2016, la società Gran Sasso Resort e Spa. Grazie a tutti.